Come un problema può divenire una risorsa? L'azienda gubina RDA Foluzioni Innovative, al via proprio in questi giorni da una costola della RD Creativity, formata da Riccardo Pompei, Daniele Manuali e Alessandro Barbacci, cerca di contrastare in combo sia l'emergenza Covid che la crisi lavorativa. RD è una start-up innovativa che da anni collabora con varie aziende nazionali e multinazionali metalmeccaniche e la crisi profonda del settore è stata una spinta per dare ancora più slancio ad altri innovativi progetti, tra questi i Cappi, una macchina automatizzata di dimensioni ridotte che produce cappelletti ideata lo scorso anno, mentre in questo 2020, profondamente segnato dall'emergenza coronavirus, è nato il Sunny Point. Parliamo di un box sanificante costruito con una struttura in alluminio certificato CE che può essere installato davanti o all'interno degli ingressi di tutte le attività commerciali, strutture ricettive o ristorative e anche presidi ospedalieri con lo scopo di sanificare il passaggio delle persone, ma anche indumenti o tessuti d'abbigliamento, neutralizzando così una potenziale carica virologica. Principalmente noi lavoravamo per aziende multinazionali della metalmeccanica, ora c'è una crisi profonda e in questi due mesi di pandemia abbiamo fatto richiesta al prefetto per lavorare a questo progetto qui che andava a contrasto del Covid-19. Invece di stare a casa siamo un po' reinventati questa cosa. Diciamo che l'idea è nata nel problema, circa due mesi fa, i primi casi in Italia, è nata l'idea di creare qualcosa che possa evitare il propagarsi del virus come sapete tutti, perciò è nata l'idea di creare un passaggio pedonale che sia sanificante e l'idea è anche di creare, come vedi la pianta, un sistema al 100% naturale. Secondo me oggigiorno le persone anche di una certa età che si muovono hanno paura, è giusto che sia così e hanno paura anche chi lavora e in questa maniera utilizzando una mascherina e i guanti, io non dico al 100% ma in maniera completa uno è sanificato, una persona è sanificata e quindi è una soluzione che rende la mente più tranquilla. Dotato di un apposito sensore il Sunnypoint attiva istantaneamente per 8 secondi il sistema pompante prevedendo una regolamentazione degli accessi tramite semaforo ed un timer automatico per il completamento del ciclo di nebulizzazione ed inoltre dotato di un tappeto assorbente all'interno del box per la sanificazione delle calzature, tutto questo privilegiando totalmente prodotti green con un prodotto sanificante certificato dal produttore Terra Italica, una miscela al 100% naturale senza alcun rischio per la salute delle persone e per i tessuti, un prodotto che è stato al centro di uno studio curato dall'Università di Milano e dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Bergamo effettuato fu una RSA Bergamasca e che oltre ad abbattere enormemente la carica batterica ambientale ha portato a tutti gli ospiti un miglioramento sia per l'utilizzo minore dei farmaci che per l'allevamento delle patologie polmonari e così il gruppo di RDA oltre ad adattare le proprie creazioni secondo le necessità di chi ne fa uso sta mettendo a punto anche altri progetti proprio per sanificare anche internamente le strutture. Se io sanifico con qualcosa che sia chimico o quant'altro perlomeno sugli indumenti diciamo delle persone andrei diciamo sì a igienizzare sì ma anche a spuzzare qualcosa di chimico quindi grazie a due microbiologi diciamo abruzzesi siamo riusciti a trovare un prodotto che sia frutto delle piante praticamente e che sia sanificante cioè abbatte la carica batterica. Oltre a questo modello qui creiamo altri modelli a su misura del cliente poi possono essere personalizzati con serigrafie del cliente e soprattutto per abbigliamento ci hanno richiesto delle cabine più piccole per sanificare gli abiti i tessuti stiamo sviluppando altri progetti per quanto riguarda le strutture ricettive organizzando e facendo degli impianti proprio appositi dentro la struttura che sanificano i locali e con una nebbiolina finissima non c'è bisogno di pulire o sanificare tutte le sere con stracci e quant'altro.